Sono 104 le donne uccise dall'inizio del 2022 in Italia, di cui 88 in famiglia. Sono dati sempre più preoccupanti quelli su cui si muove la paura delle donne italiane di essere vittima di soprusi e violenze. Per celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, i nomi delle tante, troppe vittime, sono stati proiettati sulla facciata di Palazzo Chigi, illuminato di rosso. Da Guglielmina, soffocata dal marito il 6 gennaio, a Vera, accoltellata a morte dall'ex soltanto quattro giorni fa, numeri contenuti nel report diffuso dal Viminale. Di queste 104 vittime, 35 avevano più di 64 anni, la maggior parte di loro. Le morti, nello stesso periodo dello scorso anno, sono state 109. Un lieve calo che non cambia però i fatti. Le donne continuano ad essere uccise nei contesti più disparati e la maggior parte di loro è stata uccisa con coltelli, almeno 37 su queste 104, altre 23 invece con armi da fuoco. E poi ci sono i femminicidi a mani nude e vittime da percosse, modalità che sono in aumento rispetto allo scorso anno. Secondo i dati Istat, nel 2022, le vittime uccise in una relazione di coppia o in famiglia sono state 139, di cui 39 uomini e 100 donne. A livello mondiale, invece, secondo l'ONU, ogni ora più di 5 donne e ragazze hanno trovato la morte in famiglia. Questo corrisponde ad un femminicidio ogni 12 minuti. Sulla questione si sono pronunciati anche il presidente Mattarella e la premier Meloni, condannando con forza ogni forma di violenza e dichiarando di voler attuare soluzioni che garantiscano serenità e protezione. Per il presidente della Repubblica si tratterebbe di un'aperta violazione dei diritti umani, prevenzione, protezione e certezza della pena. Invece, per la presidente del Consiglio, sono i tre pilastri su cui il governo, in prima linea, combatterà la barbarie.